La nostra regione è interessata da un campo di alta pressione di natura africana che sta determinando condizioni di stabilità con temperature ben oltre la media del periodo. Una fase dal sapore primaverile che raggiungerà il culmine nella giornata di sabato 6 febbraio, quando le temperature massime potrebbero raggiungere 20 gradi centigradi su molte località della nostra regione, segnatamente quelle più interne, ma dalla Spagna, come possiamo apprezzare sulla cartina, è in arrivo una perturbazione piuttosto intensa alla quale si accompagna un minimo depressionario al suolo che dalla Francia raggiungerà il tirreno settentrionale entro la giornata di domenica. Dunque, dopo questa parentesi di bel tempo, ritorneranno le precipitazioni, con conseguente sensibile calo delle temperature e con valori che si riporteranno in linea con la media del periodo. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 6 febbraio, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ovunque e con rari passaggi di rubi stratiformi. Temperature in ulteriore lieve aumento, con valori massimi prossimi a 20 gradi centigradi nelle aree interne, tra 15 gradi e 17 gradi invece lungo la costa. Venti tra deboli e moderati da scirocco e mare da poco mosso a mosso. Domenica 7, cielo inizialmente poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore nord-occidentale della regione. Entro il pomeriggio avremo un ulteriore aumento della nuvolosità ovunque, con associate precipitazioni inizialmente miste a polvere sariana. Nel corso della notte sensibile peggioramento, con precipitazioni che localmente potrebbero assumere carattere di forte intensità. Temperature insensibili e diminuzione dalla serata. Venti moderati da sud con tendenza a disporsi da libeccio dal pomeriggio e a rinforzare nel corso della serata. Mare mosso con ulteriore aumento del moto ondoso dalla tarda serata. Nei primi giorni della prossima settimana sulla nostra regione insisteranno correnti occidentali con il passaggio di altri fronti perturbati. Il tempo si manterrà dunque instabile a tratti perturbato, con piogge che da lunedì, tra lunedì e martedì, potrebbero risultare abbondanti. Le temperature si manterranno in linea con la media del periodo o qualche grado al di sopra. Probabile lieve miglioramento da giovedì 11 febbraio. Ma, per maggiori dettagli, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.medeogiuliacci.it. Bene, termino qui. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.